come si può non condividere il manifesto dice tutte le cose per il quale io che fra poco 70 anni sono cresciute in questa città con questi valori il salone del mobile sembra in fiera ma in verità tutto quello che succede la si riversa qua dove si riversa per le strade è vero che a milano c'è la moda c'è il salone del mobile ma ci sono anche i teatri c'è il nostro centro che abbiamo ci siamo rimboccati le maniche con i privati e ognuno a milano i milanesi hanno fatto di milano questa spinta che c'è che in effetti sta dando un esempio ma non ormai non più all'italia ma anche all'europa per cui esiste perché tutto è intrecciato gli artisti che disegnano che fanno le scene che vanno a rendere un posto più piacevole dove si mangia uno spettacolo che dentro un luogo non a caso questo luogo è stato fatto da delucchi cioè è tutto un intrecciarsi di guardare rispettando il passato la tradizione di guardare tutto ciò che reggerà nel futuro quello che si inventa milano non invecchi anche quando lo modifichi e quando lo fai per il futuro